Senatore Claudio Borghi, prego. Grazie Presidente. Vedo che l'abitudine di mettere in bocca cose mai dette continua e aggiungo anche la parte relativa a quanto è a mia conoscenza rispetto a quanto è stato detto prima dal Presidente Boccia. Per quello che riguarda la trasfusione del decreto nessuna nulla osta da parte del gruppo Lega perché si tratta di una cosa molto frequente per cui non capisco lo sdegno nel senso che tante volte quando almeno per quello che riguardava le questioni economiche quando il Ministro era Gualtieri i decreti di economia si iniziavano e poi si trovavano trasfusi e inseriti anche in certi casi fino a tre decreti in uno. Per cui non capisco sinceramente questa meraviglia, questo spregio del Parlamento. Viceversa, per quello che è stato detto stamattina in Commissione Affari dell'Unione Europea, io scuso il Presidente Boccia perché probabilmente si informa su Repubblica. Repubblica probabilmente si informa da qualcuno che dice cose sbagliate e quindi evidentemente può essere che sia stato tratto in inganno. Ovviamente io non ho chiesto nessun tipo di indagine conoscitiva nei confronti dei magistrati, cosa assolutamente incredibile. Guardatevi i resoconti così poi dopo potete valutare se è vero o non è vero. Io ho chiesto un'analisi conoscitiva sulla gerarchia delle fonti perché, e non è un'indagine sui magistrati, è un'indagine che dovrebbe preoccupare tutto a questo Parlamento perché voi capite che se noi qua facciamo un provvedimento di legge, che sia proveniente da un decreto, che sia da un disegno di legge, e non si capisce se questo è un testo definitivo o se è un testo che può essere disapplicato, quello sì da un magistrato, ma non mi interessa cosa decide il magistrato singolo, mi interessa la procedura, mi interessa la possibilità che un magistrato possa disapplicare una legge fatta da questo Parlamento, non solo sulla base di un contrasto di un trattato, ma sulla base di un contrasto con una sentenza. E voi capite che a questo punto la certezza del diritto e la nostra stessa esistenza come senso di Camera e di potere legislativo diventa pericolosa perché noi facciamo qualcosa e a un certo punto si sveglia qualcuno che decide in audita altera parte che la nostra legge non conta più perché conta più una sentenza che magari si riferiva, come in certi casi, a una situazione in Moldova piuttosto che in Lituania o così di questo tipo. Bene, non va bene così. E allora io ho semplicemente chiesto senza nessun tipo di eversione che questa situazione che mi sembra molto pericolosa venga analizzata e spiegata da dei giuristi e magari ci dicono che è normale così e così a questo punto lo sappiamo e ci sappiamo regolare. Ma magari ci dicono invece che altri paesi che mi sembra in tutta evidenza stanno facendo quello che vogliono perché la Germania manda la gente in Afghanistan, tanto per dirne una, e non mi sembra esattamente un paese tranquillo e sicuro, evidentemente forse l'Unione Europea è differente in Germania rispetto che all'Italia e allora a quel punto che noi si sappia se si devono fare delle modifiche ed è colpa nostra perché siamo meno sovrani rispetto alla Germania oppure se invece le cose stanno così e allora a quel punto ci sappiamo regolare tutti. Quindi nessuna cosa contro i magistrati, in nessun caso, semplicemente un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti che mi sembra più che necessaria per cui è stato mal informato, deciderà l'ufficio di presidenza della Commissione Quarta se è il caso di sentire delle informazioni oppure no, dal mio punto di vista più informazioni ci sono e meglio è per tutti se altrimenti anche in questo caso se l'ufficio di presidenza desiderà che non è il caso di sentire degli esperti che potrete indicare anche voi me ne farà una ragione. Quindi nessuna versione, nessun problema. Grazie. Grazie Senatore Borghi, è stato chiarissimo la sua precisazione.